Con Paola Piacenza, regista del documentario Il Fronte Interno, in proiezione a Roma, cinema farnese, martedì 21 marzo 2023, ben trovata. Buongiorno. Che storia hai raccontato? Il Fronte Interno che ha anche un sottotitolo, forse semplicemente un titolo più lungo, che suona Un viaggio in Italia con Domenico Quirico, questo è Un viaggio in Italia insieme all'inviato di guerra della stampa, con cui avevo già girato un film. La genesi di questo viene proprio dal film precedente che si intitolava Ombre dal fondo e che cominciava nel racconto del rapporto tra l'inviato e la sua professione, però partiva in questo racconto all'indomani della sua liberazione dalla prigionia in Siria e di conseguenza poi, essendo stato un viaggio, questo quasi tutto all'interno di una stanza, nel senso che era stato un dialogo tra di noi su questo, poi ci ha portato anche fuori e ci ha portato tra l'altro in Siria a ritrovare un luogo tra i molti in cui era stato tenuto prigioniero e poi sul fronte del Donbass, ma nel 2015, parliamo dell'inizio di quello che stiamo vivendo adesso. Ecco, quel film era andato bene, era passato a Venezia e insomma ci hanno incoraggiato a farne un altro, ci hanno chiesto di che cosa vorreste occuparvi e abbiamo pensato che volevamo occuparci intanto del nostro paese, soprattutto perché Domenico lo ha battuto meno rispetto a tutti i fronti di guerra e a tutti i luoghi dove si sono verificate crisi umanitarie nel corso degli anni e poi perché ci interessava a provare a raccontare una questione che avevamo prima della pandemia, che secondo noi era importante e bruciante, la questione della povertà. L'idea era quella di trovare dei fronti interni, dei luoghi nel nostro paese dove i nostri concittadini vivessero situazioni di difficoltà e di provare a raccontarle non tanto in termini statistici, perché alla fine quando si parla di povertà forse anche per pudore si fanno soprattutto numeri, ma attraverso incontri e attraverso un tentativo di entrare in relazione con queste persone. E questo è stato questo viaggio, alla fine è stato un viaggio in quattro luoghi, Milano, Aosta, Torino e Palermo, quattro città, con i loro dintorni e con istituzioni che all'interno delle città operano e anche con persone che hanno accettato di raccontare la loro storia. Come lo hai strutturato il documentario? Sono quattro tappe che si alternano, non sono quattro capitoli che si aprono e si chiudono, ma è un viaggio che torna anche su se stesso, in quasi tutti i luoghi, tranne forse la Val d'Aosta dove siamo andati e abbiamo chiuso il viaggio, in tutti gli altri luoghi siamo tornati, anche perché a un certo punto è entrata in gioco la pandemia e questo ha cambiato le regole del gioco per noi. Intanto perché io e Domenico ci trovavamo in due regioni diverse e a un certo punto era proprio impossibile per noi anche ricongiungerci per lavorare insieme. Quindi ci sono stati dei momenti in cui io ho filmato senza di lui. Le regole di ingaggio ce le siamo date viaggiando perché abbiamo fatto dei piani che abbiamo dovuto rivedere ogni volta perché entrare in rapporto con le persone, soprattutto quando sono persone in difficoltà e misurati con la loro sofferenza, ti costringe poi a rivedere quello che avevi immaginato che sarebbe successo e di conseguenza a ristrutturare anche il nostro percorso. Ognuna di queste tappe in maniera abbastanza naturale si è connotata in maniera forte perché la povertà si declina in molti modi. A Milano ci siamo piazzati con la nostra camera e siamo andati e tornati mille volte in un luogo molto preciso che è l'associazione Tampiedele che di fatto amministra un sistema sanitario parallelo a quello istituzionale e aiuta persone così in difficoltà molto spesso da non potersi permettere il ticket o da non essere in grado di entrare dentro l'istituzione per varie ragioni. Ed è stato illuminante per me vedere come nella regione dove io vivo e che si fregia di essere la regione più all'avanguardia e forse in parte lo è magari da un punto di vista tecnico sulle questioni della salute e di fatto non lo è da un punto di vista umano, non lo è proprio per niente perché non riesce a garantire il diritto alla salute a tutti i suoi cittadini ed è stata una presa di consapevolezza molto forte. In Val d'Aosta abbiamo lavorato nel banco alimentare più piccolo d'Italia. Aosta è una città molto piccola, non è sicuramente una metropoli è grande come un quartiere di Milano però lì c'è una sorta di pregiudizio positivo è un'idea che la regione è stato tutto speciale, col turismo non conosca queste difficoltà, non è così è una delle regioni con il tasso di povertà più elevato del paese e lì la questione proprio della povertà alimentare ci è apparsa in tutta la sua evidenza ci siamo confrontati con un'istituzione che è molto efficiente nel cercare di tappare i buchi e nel cercare di tendere una mano a Palermo, molto importante per me è stato il lavoro a Palermo perché siamo entrati in una scuola e ci siamo confrontati con la povertà educativa che è la madre di tutte le altre è quella povertà che impedisce ai nostri cittadini più piccoli di formarsi un'idea di sé che comprenda anche delle alternative al loro presente per questi ragazzi è molto complicato nonostante il lavoro molto duro e anche molto efficiente che fa la macchina scolastica noi siamo entrati in una classe dove c'erano dei professori commoventi per dedizione dove c'era una preside molto dedicata al proprio lavoro molto prepotentemente dedita a cercare di fare tutto il possibile per fornire delle alternative di sguardo a questi ragazzi però è molto complicato infine a Torino abbiamo lavorato con i volontari della comunità di Sant'Egidio che soprattutto durante la pandemia ma anche prima e comunque continuano a farlo anche adesso all'interno di un campo che era stato stabilito per l'emergenza freddo portavano ogni sera il necessario per sfamare le persone che riuscivano ad entravi quindi insieme la questione abitativa e la questione alimentare in questo caso Che scelte distributive avete fatto? Il documentario è prodotto dalla frenesi film di Luca Guadagnino che aveva prodotto anche il precedente ed è coprodotto da Rai Cinema Abbiamo scelto, secondo me abbiamo fatto bene una distribuzione un po' tartoriale grazie alla Chio Film di Valentina Del Buono che l'ha portato un po' dappertutto cercando sala per sala le sale giuste per proiettare il film la distribuzione di documentari in Italia è complicata e sono molto felice che adesso saremo a Roma tra l'altro in un cinema così bello così centrale come il Farnese con una programmazione così interessante perché insomma ci mancava la tappa romana e adesso ce l'abbiamo e ha funzionato molto bene ogni volta il film è stato presentato con incontri con me, con Domenico perché il pubblico di questo genere di cinema è molto esigente ma soprattutto guarda dei film che producono curiosità producono interrogativi e quindi sono sempre molto disponibili a dialogare con gli autori e gli autori traggono grande beneficio dal dialogo col pubblico perché scoprono dei loro film a meno a me questo succede regolarmente degli aspetti, degli elementi di cui sono insomma dei produttori inconsapevoli in qualche modo quindi è molto bello io non mi stanco mai di accompagnarli i film poi hanno una vita sempre molto lunga quindi hai l'impressione veramente di stare in compagnia del tuo film per lungo tempo e ti dà una vera ricchezza il documentario Il Fronte Interno un viaggio in Italia con Domenico Quirico a Roma Cinema Farnese martedì 21 marzo 2023 un saluto e un ringraziamento alla regista Paola Piacenza a presto grazie a te gli ascoltatori a presto